Seguimi, oggi ti porto in questo meraviglioso appartamento, secondo me, è il trilocale perfetto. Abbiamo un vero salone doppio, sconfinato, sala da pranzo, una zona a conversazione quasi di rappresentanza. Andiamo in via California, balcone di un secondo piano alto, e lì, tra due giorni, aprirà la fermata della metropolitana a linea blu, California. Parchè in continuità in rovere a Listoni, in tutto l'appartamento, ma vieni con me in cucina, anche qui parchè in continuità. Piano in quarzo, doppio forno, lo scalda a vivande, trita rifiuti, wow. Qui abbiamo una zona lavanderia col bagno di servizio e un balcone. Seguimi nella prima camera, ampia, luminosa, con una cabina armadio davvero degna di questo nome. Bagno, lavandino doppio, boccia e una grande vasca. Tra l'altro le finiture in mosaico più legno massello sono davvero, davvero una chicca. Ma andiamo nella camera padronale. Te la svelo, wow. Vestiere, cabina armadio, davvero una meraviglia, attrezzata perfettamente. Andiamo a vedere il grande letto queen size. C'è così tanto spazio di fronte che è stato posizionato dagli attuali proprietari addirittura un divano. Seguimi perché non è finita qui. Perché al nono piano di questo stabile c'è un terrazzo. Sì, è un terrazzo condominiale, ma lo puoi usare ogni volta che vuoi. E hai la vista a 360 gradi non solo sulla skyline milanese con Torre Velasca, Duomo, Gaio Lenti, City Life, il Monte Rosa, il Monte Bianco là in fondo. Insomma, avere un terrazzo condominiale che puoi usare ogni volta che vuoi con questa vista è davvero, davvero una chicca. Ed è raro a Milano da trovare. Ti ho portato in via California al secondo piano di uno stabile elegante in un grande silenzioso trilocale di 140 metri quadrati. Con ingresso, salone doppio, molto grande, balcone, cucina separata con penisola, zona di servizio con lavanderia e bagno. Zona notte perfettamente disimpegnata con due grandi camere matrimoniali, un bagno che è una meraviglia e doppia cabina armadio. Per tutto questo la richiesta è perfetta e sconsiderata. Lo voglio comprare io. Un milione e cinquantamila euro. Grazie a tutti.